Con estremo ritardo, ma voi sapete che il mood è questo Pagellone senza peli sulla lingua 2021-2022 Voi un mi piace, ma soprattutto un vostro commento con le vostre pagelle qui sotto Oppure vi basta scrivere quale tra queste pagelle a voi non piace Reparto portieri, i portieri sono stati due Il primo Peragotti, il secondo Massolo, si è cominciato così Peragotti, voto 5,5 Il portiere sappiamo che è un ruolo delicato, forse il più delicato in assoluto per chi mastica di calcio Do un 5,5 perché sarà la forma fisica, sarà la questione mentale Ma Super Pela che Indy ha fatto tanto bene Già dallo scorso anno ha fatto intravedere problemi di natura Quindi voto 5,5, potrei dare anche tranquillamente un 5 L'unico step positivo per me di questo voto è il fatto che poi è stato messo da parte E al suo posto è arrivato Super Massolo Santo Massolo Samuele che si è preso il posto da titolare dopo disavventure in porto del suo collega E grazie ovviamente anche al lavoro dei nostri preparatori Ha sfornato prestazioni super Sia già in campionato Ma soprattutto poi nei playoff parando addirittura due rigori E' vero un errore grave Che poi non è stato grave per il salvataggio di Ivan Marconi Santo Massolo E chissà come sarebbe andata se ci fosse stato già lui dall'inizio Voto 7,5 pieno Darei quasi un 8 per Samuele Massolo Passiamo ai difensori Partiamo dalla fascia sinistra Abbiamo Maxim Giron Si presenta con una prestazione allucinante contro il Latina Io ero allo stadio Do un 7 pieno a Giron Perché comunque il suo compagno reparto era Robertino Crivello E Giron ha fatto tutto ciò che un terzino deve fare Ha corso, si è impegnato, bene in fase difensiva, meglio in fase offensiva Ha cominciato nel 3-5-2 con Filippi E poi con Baldini è tornato ovviamente a fare il difensore di ruolo Però le sue sgruppate ci hanno fatto sempre ben sognare Soprattutto nei playoff è arrivato non soltanto lui, un po' tutti È arrivato in una condizione strabiliante Io un 7 pieno voglio darlo al francese Maxim Giron Per quanto riguarda Crivello il voto è basso Non so quali Santi abbia ancora in paradiso Comunque è sceso di categoria per diventare un giocatore del Palermo Dopo varie parentesi in altre squadre che non mi va di pronunciare in questo momento Voto 5 per Crivello Non posso dimenticare il suo errorazzo ai playoff Durante un cross ha finto l'infortunio Dopo aver fatto un errore Da scuola calcio Voto 5 per Crivello Fascia destra Doda e Buttaro E anche Accardi Devo metterceli tutte e tre Parto da Doda Nutro tanta simpatia verso il giocatore Mi aspettavo qualcosa di più Purtroppo né con Filippi né con Baldini è riuscito ad imporsi Il voto è 5 Ci auguriamo possa fare meglio in futuro Capitano Accardi E poi passiamo a Buttaro Capitano Accardi è l'unico supersite del vecchio Palermo È la nostra bandiera È tifoso Tifa per questi colori E non ha mai smesso di lottare sia in campo che fuori È stato un perno di questa squadra Voto tranquillo un 6,5 Purtroppo ha inciso tanto la sua condizione fisica Tanti infortuni L'ultimo non gli ha permesso di concludere il campionato Ma a livello mentale di spogliatoia va dato veramente tanto Dopo l'addio di Almici si era imposto molto bene E purtroppo sì Gli infortuni non gli hanno permesso di finire il campionato Passiamo ad Alessio Buttoro Ringraziamo Castagnini per l'acquisto E ringraziamo anche a Roma per il regalo Alessio Buttoro classe 2002 7 più Per lui perché comincia la difesa 3 Viene acquistato per fare il terzo di difesa Ok l'irruenza ma è giovane E gli si può perdonare Poi diciamocelo chiaro Non tutte le espulsioni sono state soltanto colpa del giocatore Fa benissimo nella difesa 3 Parte in sordina un po' durante i playoff Come esterno destro sostituendo proprio Accardi Però poi viene fuori un giocatorone Per me il prossimo anno è assolutamente da confermare Voto 7 più la sorpresa delle fasce della scorsa annata Passiamo ai difensori centrali Partiamo dai voti un po' più bassi Bubamarong è un portafortuna penso ormai Purtroppo il covid lo ha steso quest'anno Non posso che dargli un voto 4 perché non l'abbiamo praticamente mai visto Michele Somma I Santi in paradiso non li ha soltanto a Robertino Crivello Ma anche lui ha giocato ad alti livelli e non solo Viene a Palermo e gli viene dato un contratto allucinante Non lo abbiamo mai visto E forse è meglio così Diciamo che non lo ricorderemo molto volentieri È vero che non lo spogliato io però Era un personaggio importante Comunque voto assolutamente insufficiente Voto 4,5 Altro non titolare sto parlando di Perrotta Nutrivo belle cose nei suoi confronti Mi aspettavo tanto anche se da Bari me l'hanno lanciato come pacco Però sia nello spogliatoio sia in campo nelle partite in cui ha giocato Per me ha dato tanto È stato schierato a volte fuori ruolo Sono sincero per me ha fatto un buon campionato Un'ottima riserva Voto 6 più Adesso passiamo ai due centrali che hanno giocato per praticamente tutto l'anno Il primo è Edoardo Lancini Per chi mi segue da tanto E per chi ha seguito tutte le live Su Twitch Durante le partite Le reaction eccetera Sapete che io non è che nutra tutta questa gran simpatia Verso il giocatore Insopportabile a inizio campionato Tanti errori Soprattutto a livello mentale Di concentrazione Anche lui ha giocato Diverse volte in Serie B È arrivato scendendo Di due categorie per arrivare a Palermo In D ha fatto un buon campionato Infatti lo chiamavo Il Bonucci di Palermo Perché La testa è quella Con Filippi male male nella difesa 3 Baldini comunque ha trasformato tutti E anche lui ha concluso facendo un finale di campionato quasi perfetto Soprattutto senza ammunizioni stupide E senza espulsioni Voto 6 e mezzo per Edoardo Lancini Che si è rifatto dopo un inizio terrificante Dopo due anni terrificante Al suo posto c'è questo uomo qua Ivan Marconi Ivan Marconi che per me meriterebbe La riconferma solo per quella rovesciata Da calciatore Panini Sulla linea contro il palo Nella finale d'andata Rinnovo che Tocchiamo ferro Arriverà Il baluardo di questa difesa L'unico che È stato sempre positivo In questi due anni In questi ultimi due anni È stato In assoluto Il migliore Della retroguardia Rosa Nero Io non posso chiedargli un voto altissimo 7 e mezzo Ivan Marconi Che ormai Posso dirlo È un palermitano adottivo Perché ci tiene veramente Veramente tanto In assoluto Il più positivo Passiamo ai centrocampisti Partiamo da Dalloi Dalloi a Catania era Un giocatore Un bel giocatore Purtroppo Non abbiamo visto Tantissima qualità Non posso dargli una sufficienza Perché Mi aspettavo Sono sincero Molto più da lui È nato a Mistretta Ha giocato Ha giocato a Catania E poi è arrivato a Palermo Voto 5 e mezzo Per Dalloi Moglie permettendo Passo all'altro centrocampista Che ha giocato meno Cioè Auger Anche se Spezzoni di partita Ne ha giocato tantissimi Mi aspettavo tanto Da lui Sia con Filippi Che con Baldini Ha visto sempre meno il campo Però Quando È stato chiamato in causa Ha sempre dato il mille per mille Corre Pressa Ha i piedi storti È un giocatore Sida Serie C Barra Serie B Mi aspettavo di più Sono sincero Da un giocatore come lui Nutro Tanta simpatia Verso il giocatore Non posso Che dargli Un 6 Perché se lo merita tutto Passiamo a Samuele Damiani Ripeto Per chi mi segue Mi ha seguito Speravo Nell'arrivo di questo giocatore A gennaio scorso Ha cominciato benissimo Esordendo Con un gran gol Il giorno del suo compleanno Poi se non sbaglio Purtroppo I infortuni Sono Un fattore nel calcio Che non ti permette Di essere al 100% subito Lui Veniva da un lungo Periodo di Stop Si è preso il suo tempo Giustamente Ma ha concluso E playoff In una maniera Allucinante Per me andava Assolutamente Riconfermato La riconferma Dovrebbe essere arrivata Aspettiamo soltanto L'ufficialità Samuele Damiani È quel giocatore Che Affina sia quantità Che qualità È in questo Palermo Anche in Serie B Io Voglio Vederlo Voto 7 meno Semplicemente Per il periodo di storia Passo all'altro E poi passiamo al capitano Parlo di Gregorio Luperini Prima Gregorio Non è che abbia giocato In questi ultimi due anni È vero che Segnava Segnato Da calcio d'angolo Di testa Ha un fisico Che gli permette Di essere statuario In una area di rigore Però da un giocatore Come lui Che veniva dal Trapani Dove aveva segnato A Raffica Ci aspettavano qualcosa di più Ci vorrebbero due voti Perché Inizia È anche l'anno scorso Ma parliamo di quest'anno Inizia il campionato Con Filippi E penso che Si chiamasse Gregario Luperini Era un fratello Quindi per quel Luperini Vuoto 5 Ma da quando è arrivato Baldini Luperini è diventato Il giocatore In Europa Che ha recuperato Più palloni E poi giocava Tre quartista Cioè Non puoi non dargli Un 7 e mezzo Per il finale di stagione Non si può Perché il voto Dovrebbe essere ancora più alto Ma il 7 e mezzo Va benissimo Per compensare Un inizio Terrificante Di questo giocatore Ha finito al meglio E Dobbiamo ringraziarlo Ovviamente Capitan Ciccio Polpaccio È l'ultimo Dei centrocampisti E poi si passa Al reparto offensivo Che dire Per molti Già lo stanno Sacrificando Come giocatore Che in Serbino Dovrebbe giocarci Ma quello che ha dato Ciccio Polpaccio A questa squadra È Una quantità Sia di palloni recuperati Di carisma Qualcosa che a questo Palermo mancava Io ho visto fare cose A De Rose Che sono veramente Allucinanti Recuperare i palloni Nella propria area E ripartire Come un forse nato Dopo 40 partite Ripartire E farsi tutto il campo Non ha mai tirato Indietro la gamba Ci ha messo Anime corpo Io Al capitano Che Se solo avesse Un po' I piedi alla Damiani Sarebbe Un giocatore Tranquilmente Da Serie A Voglio Dargli Un voto Il voto più alto Di questo centrocampo Voto 8 C'è sempre stato E non ha mai mollato Passiamo al reparto offensivo Felici da una parte E Stilipo dall'altra Prima parlo Dei due più giovani Quelli che hanno Anche giocato meno Felici veniva Allo l'infortunio Da lui mi aspettavo tanto Ho esordito anche lui Con un gol Però Baldino L'ha fatto giocare L'ha fatto giocare poco Qualche prestazione ottima Soprattutto la prima E poi Prestazione non bellissima Ci aspettiamo tanto E un bel giovane Che in dia Ha fatto gli sfracelli Ma per questa Per questa stagione 5 e mezzo Tranquilla E' giovane E ha il futuro Dalla sua parte Dall'altra parte Poi c'è Andrea Silipo La domanda Che tutti sono fatti Da due anni A questa parte Ma perché Non gioca Silipo Silipo ha giochicchiato Con Filippi Però Baldini Gli ha fatto capire Che in questo calcio Se vuole esplodere Deve dare il mille per mille E in questo Fine di campionato Ha dimostrato anche lui Che aveva voglia E ci ha messo Tanta grinta in più Cose che si vedevano meno Si vedevano soltanto Prima i colpi di classe A Silipo Don't say Di incoraggiamento Giuseppino Fella E io mi aspettavo Tantissimo a lui Sono molto sincero Perché conoscevo il giocatore Perché sapevo Le sue annate precedenti Mi aspettavo Una valanga di gol Gol che non sono arrivati Gol che si sono arrivati Ma comunque pochi Uno in rovesciata In mezza rovesciata Poi Durante playoff Da Fella mi aspettavo Tanto tanto di più Adesso viene riscattato Perché avevamo l'obbligo Di riscatto In casa di promozione Dalla Salernitana Da questo giocatore Tecnico Mi aspettavo Un pizzico di voglia in più E sto fermatore di infortuni Non voglio essere Troppo pesante Ma Sei meno Per Giuseppe Fella Se lo merita Ne mancano quattro Valente Floriano Soleri E Brunori Parto da Nicolino Brumbrum Ha dato tutto È arrivato Ai playoff Un po' scarico Però è il giocatore Che ha realizzato Più assist E ha segnato E ha segnato Anche gol decisivi Spira nel fianco Delle difese avversarie Giocatore Che non si è mai Fermato A volte mi chiedevo Se anche a fine partita Corresse Per arrivare a casa Sette meno Allucinante Capo cannoniere Non è merito È loco Soleri È il mattatore Quello che Entrava e segnava Se giocava a titolare Non segnava Veramente c'è una legge Per Soleri Soleri Merita Una statua Perché Star fuori Non lamentarsi Essere sempre col sorriso Entrare E poi essere sempre decisivo Non posso che non dargli Un sette e mezzo Anche a lui Perché Un giocatore così Nella mia squadra Il cuore Io non l'ho mai visto E poi Gol tutti brutti Tutti brutti A partire Dall'Euro goal Col Picerno Al gol con la Feral Pisalò Vabbè Lasciamo stare Sette e mezzo Per lui Ultimo Ma ovviamente Non per importanza Matteo Luigi Brunori Non fatecelo pagare 5 milioni Perché sono troppi Voto 8 8 e mezzo 9 meno meno Ha cominciato un po' In sordina Ha sbagliato il rigore Ma i rigori Li sbagliano i campioni Li sbaglia chiunque Vedeva Un po' meno la porta Io però Dalla mia Sono sempre stato accanto Al giocatore Perché mi ricordo Quando la scorsa estate Feci Una live su Twitch Dove Guardammo I gol Vecchi Del giocatore I movimenti Che faceva La facita di tiro Che aveva sia col destro Che col sinistro 29 gol in campionato 29 Non serve altro Per descrivere Silenzio Bruno Perché Un'annata così Penso che non gli Ricapiterà mai più Gli auguro la prossima Se è con la nostra maglia Però 8 e mezzo Per lui L'ultimo Non voglio darlo Il voto a Baldini Perché Baldini È L'artefice Di questo capolavoro Non ci credeva nessuno Lui Però sì Lui è l'unico Che già a dicembre Credeva che il sogno Potesse realizzarsi E quindi Il voto Che per me è altissimo Ed è una doppia cifra A Mister Baldini Datelo voi Raga Non so quanto durerà il video Spero non troppo Commentate in tanti qui sotto E fatemi sapere i vostri voti Che sono molto curioso